Sono oltre 12 milioni i clienti bancari investitori e di questi quasi l'80% si rivolge a referenti dedicati per confrontarsi sulla gestione del proprio patrimonio finanziario. Dall'ultima indagine ABGFK sulla relazione banca-clientela emerge che i clienti apprezzano servizi bancari sempre più articolati e personalizzati, anche rivolgendosi a un consulente di riferimento direttamente in agenzia o a domicilio. Per rispondere alle nuove esigenze della clientela e del territorio, la filiale ha acquisito un nuovo ruolo con più strumenti informatici e più spazi dedicati alla consulenza. L'evoluzione va di pari passo con la digitalizzazione della clientela, che accede ai servizi bancari tramite computer o cellulare, in accelerazione negli ultimi 5 anni. L'85% dei risparmiatori opera con la banca sia andando in agenzia, sia in modalità fai-da-te, cioè svolgendo operazioni via internet o mobile banking e tramite i contact center o gli ATM, soprattutto per le operazioni e i pagamenti di tutti i giorni.